Si parla molto di Giappone, soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi che avranno luogo in questo paese, ma cosa conosciamo di questa realtà? Con questa mostra promossa dalla Japan Foundation, il cui scopo è promuovere la mutua comprensione tra i popoli attraverso la cultura, abbiamo due occhi sullo stesso paese, uno puntato sulla società in trasformazione e l'altro propone immagini di paesaggi che cambiano in continuazione, in un paese tanto tradizionale quanto proiettato verso il futuro. L'esposizione ad ingresso gratuito è ospitata fino al 4 gennaio dall'Istituto Giapponese di Cultura che offre tra l'altro corsi di lingua e una ricca biblioteca.